e per cominciare facciamo un applauso a tutti i piloti che sono 18 che partecipano a questo evento straordinario, una volta all'anno un grande appuntamento grazie in particolar modo anche all'impegno di Valdonino tedesco, presidente della AMM, diamo gas ai motori ragazzi, fate risentire, metteteci grinta, metteteci tutta la buona volontà e che venga il migliore, pronti? Occhio alla bandierina che darà lo start di partenza Grazie a tutti! 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 150 T2 Bike, Rino Trofeo Racing AMM, città di Montecalco. E allora che ne dite? Facciamo un applauso a questi bravi...